Allora se volete venire la partita bomber contro king dovete fare un video mentre fate la barba e fare il gesto shave like a bomber poi taggate Gillette Italia hashtag shave like a bomber questo è uno dei film più belli del mondo film vuoto 10 grazie a tutti se anche voi vi state interrogando sull'effetto della birra bon beer gli effetti sono questi e ne ha bevuta solo una raga birra vai Bobbo ci sei? chiudi gli occhi 3 secondi e poi apri 1, 2, 3 allora io di questo prenderei